Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside. Quest'oggi ovviamente siamo in clima pre-partita, pre-partita di Milan-Juventus, quindi andremo a trattare un po' di quelli che sono state le dichiarazioni di Mr. Pioli nella conferenza stampa da poco conclusa, sì, andremo ad analizzare quelli che potranno essere duelli che vedremo domani sul campo, andremo a parlare di tanto altro ancora anche facendo qualche accenno al mercato. Come al solito vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su YouTube. Inoltre in descrizione troverete anche i link necessari per i nostri profili social, Facebook, Instagram, Telegram ed anche il nostro sito web ufficiale www.acmilaninside.com. Ecco, iniziamo ad addentrarci in quello che è questo pre-partita di Milan-Juventus, una partita fondamentale per i rossoneri che potrà segnare rispettivamente la rinascita di una stagione che può effettivamente iniziare a tremare o addirittura la definitiva caduta di tutti quanti gli obiettivi stagionali. Perché dico questo? Perché il Milan in caso di vittoria riuscirebbe a superire alla clamorosa sconfitta di lunedì contro lo Spezia, in caso di sconfitta invece rischierebbe di allontanarsi ancora di più dal primo posto attualmente occupato dall'Inter, rischierebbe di essere superato dal Napoli e allontanarsi dal Napoli di conseguenza ed rischierebbe diritto di far avvicinare la Juventus alla zona Champions. Ovviamente i rossoneri che hanno iniziato il campionato in maniera veramente molto forte rischiano di ritrovarsi in una situazione simile rispetto a quella dell'anno passato, dove a gennaio ovviamente ci fu un netto calo fisico che fece un po' tramare lo staff rossonero ma i tifosi stessi. Partiamo con il parlare un po' di questa sfida, una sfida che come mi piace fare a me di solito tende ad essere molto simile a quella dell'anno scorso, anche perché il Milan arrivò alla sfida contro la Juventus dopo l'Epifania, la sfida dell'Epifania, se non quella dell'Epifania, la sfida dopo il Benevento, dopo la vittoria col Benevento, una sfida che vi dirò i padroni bianconeri trionfare per 3-1, sul Milan che arrivò stanco e comunque in piena emergenza infortuni e Covid. Quest'anno la situazione pare essere un poco simile, soltanto che invece che arrivare alla sfida ricchi di infortuni e comunque problemi, il Milan arriva alla sfida recuperando elementi importanti della squadra. Non a caso Stefano Pioli, nella conferenza stampa prepartita di oggi, iniziata alle 2.15 a Milanello, ha parlato degli importanti recuperi di Calabria e Romagnoli in primis, citando anche Ismael Benasser che è tornato in settimana dalla Coppa d'Africa. Per quanto riguarda Romagnoli e Calabria, hanno entrambi recuperati dal Covid, sono entrambi risultati negativi nel corso della scorsa settimana, Calabria addirittura è già entrato in campo nella disfatta contro lo Spezia, mentre Romagnoli essendosi negativizzato solo domenica è tornato ad allenarsi in gruppo da martedì, essendo poi definitivamente a disposizione al 100% per la sfida di domani sera. Per quanto riguarda invece Ismael, come ben sappiamo è stato in Coppa d'Africa con la sua Algeria, un'Algeria che addirittura è stata una spedizione fallimentare, quella della formazione campione in carica, in quanto è uscita addirittura nel girone con la costa di lavoro di Frenchesi come ultima con un solo punto realizzato. Ismael è tornato a Milanello nella giornata di giovedì, tornando ad allenarsi in gruppo solo stamattina, come ha detto anche il stesso da Stefano Pioli. Tanti sono i temi che sono stati trattati nel corso della conferenza stampa, uno dei tanti è stato Ibra e fu possibile impiego nel corso del match. Un giornalista gli ha chiesto effettivamente se l'idea di porre Ibra sulla tre quarti fosse un'idea reale o comunque una semplice fantasia di dei tifosi, ma non solo. Lo stesso Stefano Pioli ci ha tenuto a ribadire che ha fiducia in Brian Diaz, il Milan ha determinati equilibri e la soluzione di Ibra come trequartista potrebbe essere comunque un'opzione più a partita in corso che dai primi minuti del match. Questo sta a indicare che ancora una volta Stefano Pioli si mostra essere molto fiducioso nei confronti di Brian Diaz, ripiega tanta fiducia nei suoi confronti nonostante il periodo di forma non ottimato. A caso addirittura Brian non segna con la maglia del Milan dal giorno di andata proprio contro lo Spezia quando ci permise di vincere in Liguria per 2-1. Stesso discorso sempre riguardante Ibra, è stato stuzzicato lo stesso mister perché Ibra non segna a San Siro dal settembre del 2021 quando siglò il gol della difendiva vittoria contro Lazio di Maurizio Sarri. Pioli ha spiegato sempre con molta eleganza che Ibra nel corso di queste partite ha avuto varie occasioni partendo dal rigore contro la Roma alle varie occasioni avute contro lo Spezia la settimana scorsa, ma non è riuscito mai effettivamente a capitalizzarle. Contro la Juventus ovviamente a differenza delle scorse partite il Milan non avrà lo stesso numero di occasioni ma Ibra in queste partite come spesso cita anche nel suo libro Adrenalina riesce ad essere molto più incisivo rispetto a quanto potrebbe fare di solito. Continuando il Milan arriva ad una sfida contro la Juventus in una condizione fisica mentale completamente differente perché la Juventus arriva da un paio di settimane ottime a livello di risultati, ha vinto domenica sabato scorso contro l'Udinese per 2-0 ritrovando un Paolo Di Bala nonostante le critiche legate al possibile rinnovo di contratto. È tornato a vincere anche in Coppa Italia vincendo nettamente contro la Sampdoria qualificandosi ai quarti di finale della competizione sponsorizzata da Frecciarossa. Quindi la Juventus a differenza effettivamente di quanto possano pensare gli italiani o comunque il mondo del calcio in generale non è morta. Come dice anche lo stesso slogan dei Juventini fino alla fine, quindi sottovalutare una squadra del genere non può mai far bene. Per quanto riguarda il Milan invece gli strascichi dei 120 minuti contro il Genoa si sono fatti sentire contro la Spezia perché la squadra comunque risultata essere poco cinica nonostante l'aberrante errore abiturale che ha avuto a proprio sfavore. Il Milan comunque dovrà cercare di rialzarsi. Nel corso della settimana varie sono state le interviste fatte nei confronti dei protagonisti della rosa rossonera partendo da Florenzi arrivando a Giroud passando per Leao dove tutti e tre hanno parlato della sfida coniandola con un suo termine ovvero vittoria. L'importante è vincere per dare seguito ai risultati e per tornare a vincere e scacciare via tutti quanti i fantasmi e le polemiche legate alla sfida di lunedì contro lo Spezia. Prima di concludere vorrei adesso fare un focus come piace fare a me su quelli che possono essere i possibili duelli in campo domani tra Milano e Juventus. Partendo dalla porta quindi andremo ad analizzare porta difesa centrocampo tre quarti casomani d'attacco troviamo per quanto riguarda gli estremi difensori dei due compagini da una parte Cesni e da una parte Magnan. Entrambi grandissimi portieri Cesni ovviamente con più esperienza un punto di vista nazionale visto che gioca in serie da molti più anni rispetto al francese sono entrambi decisivi per le rispettive squadre in quanto hanno portato dai 6 ai 10 punti ad entrambi a Milano rispettivamente a Milano e Juventus. Per quanto riguarda invece la difesa, la difesa vedrà protagonisti due frecce a rossa prendendo in considerazione l'esempio fatto prima o meglio nello sponsor della Coppa Italia e della Supercoppa. Da un lato nella sua fascia a destra troveremo Juan Quadrato per quanto riguarda la Juventus e sulla fascia a sinistra per i rossoneri Teo Hernandez che ricordiamo essere diffidato quindi in caso di ammunizione contro la Juventus rischia comunque di saltare il derby appena rientrare dalla sosta. Teo Hernandez in questo momento consta di 4 gol e 4 assist e il colombiano se non erro 3 gol e 2 assist comunque entrambi decisivi e entrambi fondamentali per le rispettive compagini e potranno essere quell'arma in più che potranno permettere al Milan e alla Juventus di attaccare con più costanza e più imprevedibilità. Per quanto riguarda il centrocampo ovviamente non si può fare riferimento alla coppia tonali Locatelli. Locatelli che ricordiamo essere ex rossonero quindi tornerà a giocare a San Siro con la maia di acerimi nemici. Lui che il primo gol in seriale lo sticolò proprio contro la Juventus o se non erro lo sticolò contro il Sassuolo ma comunque ripropose un gioiello contro la Juventus 63. Locatelli quest'anno in bianco nero ha siglato 3 assist, tonali in rosso nero invece 2 gol e 2 assist. Molto simili, uno classe 2001, uno classe 98. Uno ha vinto l'europeo quest'estate e l'altro è il futuro della nazionale italiana. Sarà simpatico vederli in campo uno contro uno soprattutto per le varie voci ma per i soliti confronti che siamo soliti di fare qua in Italia. Per quanto riguarda invece la tre quarti o comunque la fase offensiva ci tengo a credo a inserire da una parte Leao e da una parte Paolo Di Bala e poi da una parte per quanto riguarda il forward quindi l'attaccante, la prima punta, da una parte Sardato Ibrahimovici e da una parte Alvaro Morata. Ovviamente per come sta andando la stagione i rossoneri sembrano essere un poco più incisivi visto anche un Leao che quest'anno ma soprattutto in questa prima parte 2022 gode di uno stato di forma allucinante. Di Bala invece che pare essersi ripreso soprattutto dopo il gol contro l'Udinesi di sabato scorso. Per quanto riguarda invece i due attaccanti da una parte troviamo Alvaro Morata, da una parte l'eterno Zlatan Ibrahimovici che nonostante 40 anni di età è a quota 8 gol in campionato. Per quanto riguarda invece i due mister ovviamente chi preparerà meglio la sfida, chi riuscirà a leggere meglio le situazioni, porterà a casa i tre punti e potrà dare una svolta decisiva alla propria stagione per quanto riguarda la Juventus o addirittura un proseguo di risultati importanti per quanto riguarda il Milan. Per il momento è tutto, ci sentiamo domani con aggiornamenti legati alla sfida, al match di San Siro delle 20.45. Per il momento è tutto, ci sentiamo domani, è sempre Forza Milano.